e lei invece chi è? sono la moglie di lei, ci presenta anche sua moglie, piacere, però Fernando l'intervistatore, allora come va? bene molto bene, sei da Mara oggi? siamo? vai da Mara dico? no andiamo da Francesca Fialdini, ok e il gruppo come va? il gruppo sta in giro per il mondo no, ognuno nelle proprie stanze diciamo, ok allora buon programma televisivo, grazie ci vediamo la prossima, noi oggi faremo un'intervista per il nostro libro che si chiama Destini allora vogliamo parlare un attimino del libro? è questo Destini, siamo onorati di essere qui, è un libro edito da Mondadori e parla insomma della nostra storia, di un pezzo della nostra storia, ma l'avete fatto insieme e il libro pure? si è scritto a quattro mani, da quanto tempo è stato insieme? a quattro mani e a due cuori, da quanto tempo è stato insieme? da più di dieci anni, allora in bocca al lupo, per quanto riguarda il libro e tanti auguri per il vostro libro, per tutto, grazie, buona vita, grazie, ciao 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 ciao